Un pareggio che vale il quarto punto in Serie A1 è quello conquistato nel campionato BMW femminile dal tennis club Padova, che sul rosso amico ha ospitato nella terza giornata del girone 2 le altoatesine del TC Rung Sud Tirol. Una sfida equilibratissima con la vista sui campi di Via Libia. Parte avanti il TC Rung con Susan Mandecchi che liquida Carolina Gasparini 6-4-6-2. Il pari Patavino arriva con Marie Benoit che ha la meglio su Dalila Spitteri con un doppio 7-5. L'ultimo singolare è ancora delle altoatesine. A Verena Mellis bastano due set per superare la capitana Maria Elena Camerini. A riequilibrare il punteggio e sfida è il doppio 6-2-6-2, il punteggio con cui Gasparini-Benoit sconfiggono la coppia Mellis-Bandecchi. Per il TC Padova che dopo tre giornate occupa il secondo posto alle spalle delle campionesse in carica della Cannottieri Casale Monferrato, un debutto nella massima serie che per ora è tutto da incorniciare. Prima volta nella storia che il tennis che Padova ha una squadra in Serie A e prima volta anche nella città di Padova con il cambio delle regole da 25 anni a questa parte in cui le squadre devono arrivare in Serie A promosse. Quindi grandissima soddisfazione, grandissimo orgoglio, bravissime le nostre ragazze. Domenica il calendario vedrà la formazione veneta affrontare la trasferta in casa del TC Italia che attualmente occupa l'ultimo posto ancora a zero punti. Un'opportunità per continuare la rincorsa a quello che per il presidente Bressan è un sogno tutto da vivere. Vincere sarà un sogno, rimanerci anche e noi ce la metteremo come sempre tutta.